Grazie a tutti. In apertura il riesame convinto che l'assassino sia Luis, soggetto spietato. Sono uscite le motivazioni della sentenza del riesame per quanto riguarda l'omicidio di Pierina Paganelli su Luis da Silva che continua a essere l'unico indagato per l'omicidio. Poi delitto Paganelli ancora perché ieri è stato scritto un altro capitolo perché Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi, è stato convocato in questura. All'uscita dalla questura ha detto sono tranquillo, sono stati copiati i dati dei telefoni. Poi una delle nostre notizie più lette è quella di cui abbiamo parlato anche ieri sui falsi contratti luce e gas. SGR lancia l'allarme, 500 truffe in un mese e l'azienda ha presentato un esposto. Allora andiamo con ordine, quindi torniamo sull'omicidio di Pierina Paganelli perché sono state depositate ieri le motivazioni del riesame, lo leggete anche sul nostro sito newsremini.it, in merito alla decisione di confermare la detenzione in carcere per Luis da Silva che i giudici descrivono come un soggetto spietato e pericoloso. Un soggetto incapace di contenere le sue pulsioni criminose, che non ha il minimo rispetto per la vita umana e che non esita a sopprimere chiunque ostacoli in suo piano. È durissimo il riesame nel tracciare il profilo di Luis da Silva, in carcere da luglio scorso per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il Tribunale della Libertà di Bologna, presieduto dal giudice Mazzino Barbensi, ha blindato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, demolendo la tesi della difesa che invece puntava al dito contro Loris Bianchi. Per i giudici bolognesi, assumono grandi e rilevanti i seguenti elementi. L'identificazione in da Silva dell'ignoto ripreso dalla CAM3, la telecamera della farmazia San Martino, mentre si dirige verso il civico 31 di via del ciclamino alle 22.17 del 3 ottobre 2023, sera del delitto, ma anche i depistaggi effettuati dall'indagato, che consegna la polizia dei vestiti diversi da quelli indossati il giorno dell'omicidio. Il movente, che è certamente passionale, è ricollegabile alla relazione clandestina con Manuela Bianchi, relazione, dicono i giudici, che da Silva cerca di minimizzare definendola solo una storia di sesso. E infine la cosiddetta confessionale amata, ovvero quando Luis, davanti alla richiesta di rassicurazioni da parte di Manuela, circa la sua estraneità all'omicidio, non ebbe la forza, secondo l'accusa e secondo l'esame, di escludere un suo coinvolgimento, limitandosi a dire «tra noi non cambia niente», frase immortalata dalle telecamere della sala d'attesa della questura di Rimini. A tutti questi elementi, scrivono i giudici, si devono aggiungere l'assenza di un alibi, la compatibilità delle tempistiche con la dinamica dell'omicidio, l'addestramento militare dell'indagato e l'assenza nel condominio di altre persone di colore. E ieri mattina Loris Bianchi è stato convocato in questura a Rimini, perché cosa? Per dare il suo consenso alla copia di tutti i dati presenti nei suoi due cellulari. All'uscita dagli uffici di Piazzale Bornaccini, dove appunto c'è la questura di Rimini, il fratello di Manuela, che si è detto tranquillo, si è fermato con i cronisti. Sentiamo cosa ha detto. Pensi è stata la mattinata senza cellulare? No, la mattinata, due ore, tre ore. Come mai? Ah, volevano vedere le cose dall'ultima volta, siamo adesso, tutto lì. Gli ho detto addirittura io, guarda che adesso ho due telefoni, gli ho dati tutti e due, così hanno fatto le dovute verifiche. Hanno fatto la copia di Forenze dei telefoni? Beh, penso di sì che si chiami così. Però le mie sensazioni, ripeto, le tengo io. Hanno toccato entrambe le inchieste? Sì. Sì, curiosità, più che altro sensazioni mie, che non voglio ribadire. Che quindi riguardano sia la miscita di Pierina sia il 7 maggio del 2023? Hanno, esattamente, hanno collegato le due cose. Ti hanno chiesto di ripercorrere i tuoi percorsi durante quei giorni? Non mi hanno chiesto di ripercorrere i miei, però se sapevo di percorsi di altri, però ripeto, anche qui si riva nelle sensazioni e mi fermo. Io mi sento tranquillo, la problematica è solamente che a volte devi perdere tempo per queste cose qui, ma fa parte comunque del dare un'indisponibilità alla forza dell'ordine. E andiamo avanti con il nostro giornale per parlare della protesta dei dipendenti della Metro. Resta incerto il futuro, appunto, dei dipendenti del negozio Metro di Rimini. Ieri c'è stato uno sciopero davanti al negozio che è rimasto chiuso. Vediamo. No alla chiusura di Metro Rimini, non molliamo di un centimetro. Questo lo slogan, con gioco di parole, dei dipendenti riminesi di Metro Italia che hanno incrociato le braccia per l'intera giornata di lavoro con un presidio di protesta davanti al punto vendita che, vista l'alta adesione alla mobilitazione, non ha potuto aprire al pubblico. In sciopero anche il negozio di Pozzuoli, l'altro del quale la società ha annunciato la chiusura. A Rimini le serande dovrebbero abbassarsi definitivamente il prossimo 31 dicembre, dopo 21 anni di attività, mettendo così a rischio 40 posti di lavoro, tra diretti e indiretti, che diventano 97, contando anche Pozzuoli. Sindacati e dipendenti però non si arrendono e chiedono all'azienda di proseguire le trattative, scongiurando la chiusura e ragionando invece sulla riconversione del punto vendita, soluzione che consentirebbe di salvare tutti i posti di lavoro. L'avvertenza, spiegano CGL e Cisle Will, proseguirà fino a che da Metro Italia non arriverà un passo indietro sulle chiusure. Non sono quindi escluse nuove mobilitazioni. E andiamo avanti dal nostro sito newsrimini.it per andare a parlare del Natale. A Riccione, un Natale lungo due mesi, tra gli ospiti musicali e anche Enrico Ruggeri, quindi a un mese dall'inizio degli eventi, la Perla Verde svela proprio i protagonisti del suo Natale di Riccione, Christmas Sea, così si chiama, e si punta sulla musica e anche su allestimenti a tema acquatico. Vediamo. Le luminarie si accendono il 24 novembre, poi per due mesi a Riccione sarà Natale. Ad un mese dall'inizio degli eventi, la Perla Verde svela i dettagli di Riccione Christmas Sea. Protagonista indiscussa la musica che animerà l'arena H2O su Piazzale Ceccarini, ma anche il Palace e le chiese. Tra gli ospiti più attesi, il 29 dicembre per il concerto degli auguri Enrico Ruggeri. Si partirà a suon di gospel con il concerto dei Florida Inspiration Singer il 24 dicembre. Il 26 la notte dei sogni con il San Martino d'Oro e la musica della violinista Laura Marzadori. La notte di Capodanno, l'H2O Arena si trasformerà in una pista da ballo con discoteca romantica affidata ai DJ che hanno suonato su una delle più famose console degli anni 90. Mi occuperò del 24 novembre dove ci sarà questa inaugurazione con questi quattro danzatori professionisti che interpreteranno i quattro elementi. Sarà una cosa molto originale, molto di impatto ed emozionale e poi la notte di Capodanno dove lasceremo andare tutti i pensieri e avremo un giovanissimo corpo di ballo che si cimenterà in questa mezzanotte di fuoco. Abbiamo deciso di dare una continuità romantica includendo un partnership importante che è l'Aqua Fan che è stato sicuramente riferimento degli anni 90 a Riccione. I produttori, i DJ, gli artisti si concentravano e arrivavano all'Aqua Fan appunto per portare i propri successi così come è stato anche per noi insomma che abbiamo dato il via ai nostri brani che abbiamo poi lanciato sul mercato. Il nuovo anno si apre con il tuffo di Capodanno e la Milonga. Riccione punta anche sugli allestimenti, il taglio del nastro della pista di pattinaggio di 1600 metri quadri che si snoderà da piazzale Roma sul lungomare in direzione Porto sarà il 23 novembre. L'8 dicembre si accende il grande albero sul Porto. Sulla piazzetta del Faro sorgerà l'oasi di Babbo Natale che arriverà su una slitta che surfa sulle onde. Il presepe sarà allestito a bordo della Saviolina. Tornano il tradizionale appuntamento con la rassegna corale dai cori al cuore l'MC Hip Hop Contest. A chiudere le festività uno spettacolo di Urban Dance. Tanti gli appuntamenti in biblioteche al museo per i più piccoli. Per gli appassionati di arte arriva a Villa Mussolini la mostra fotografica dedicata ad André Certezze e Jacques-Henri Lartig. E a proposito di Riccione vi diciamo che il lunedì 28 ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nell'area circostante l'ospedale Ceccarini in lato via Frosinone. L'intervento nasce dall'accordo tra l'Ausola e il comune di Riccione per la realizzazione di un parcheggio proprio a servizio della comunità. Il nuovo parcheggio sorgerà su quest'area di 2850 metri quadri e offrirà 84 nuovi posti auto di cui 9 riservati a persone con disabilità, due posteggi rosa per donne in gravidanza con bambini al seguito fino ai 12 mesi e due per sosta a auto con ricarica elettrica. Un intervento che si aspettava da anni. Adesso andiamo allo sport perché questa sera c'è Ternana Rimini. Busce ritrova da avversario l'ex compagno Abate. Rimini finora il meglio di sé lo ha dato lontano dal neri. In trasferta i biancorossi sono infatti ancora imbattuti e fuori casa hanno conquistato 9 dei loro 13 punti in classifica. Il test di domani sera, di questa sera a calcio d'inizio alle 20.30 è un banco di prova significativo perché Colombi e compagni saranno di scena al Liberati di Terni. Tana della Ternana appunto, seconda forza del campionato. Mister Busce ritrova da avversario Abate, suo compagno di squadra all'Empoli. Allora sentiamo le parole del tecnico dei biancorossi proprio alla vigilia. In effetti è una partita tosta perché comunque affrontiamo una di quelle squadre candidate a vincere il campionato in maniera diretta senza passare per i playoff. Quindi sappiamo il bisogno e sappiamo la forza di questa squadra. Quindi siamo consapevoli che in trasferta fino ad ora abbiamo fatto comunque cose importanti e avremo da farlo anche domani, nonostante magari qualche difficoltà, ma fa parte del gioco del calcio. Quindi la consapevolezza nostra è quella di affrontare comunque tutte le partite per portare a casa la post-impario piena e lo facciamo anche quando ci siamo in casa. Purtroppo in casa a volte anche per situazioni, episodi particolari, negativi e a sfavore è andata magari in maniera diversa. Abbiamo recuperato Chiarella che questa settimana ha fatto tutto il lavoro con noi, con il gruppo, quindi è convocato per domani. Stessa cosa di Vitis, si è aggregato anche lui, quindi due recuperi importanti. Gorelli si è fermato ieri per precauzione, lo stiamo valutando e anche oggi abbiamo tenuto opportuno di tenerlo un po' così, un po' fuori. Decidiamo un po' nelle prossime ore. E poi i soliti Cioffi, Malagrida che stanno comunque recuperando, stanno facendo comunque già lavoro in campo, quindi credo che nel giro 15-20 giorni entrambi possano riaggregarsi in gruppo. Cernicoi, sì anche Cernicoi, anche lui sta bene, sta migliorando. Credo che la settimana prossima debba fare un controllo, ma al massimo una settimana dovrebbe essere in gruppo a pieno ritmo, a pieno regime. Ed è tutto per questa edizione, ci fermiamo qui. Grazie dell'attenzione e vi ricordo il nostro telegiornale alle 19.15 e 20.15, l'edizione serale. Buon proseguimento di giornata. Grazie.